Eccoci qui, ciao ragazzi, buonasera, post partita della gara interna con il Cagliari, finisce al Castellani 1 a 1 Finita insomma da poco, io sono uscito da pochissimo dallo stadio, un 1 a 1 Insomma adesso stiamo a fare giochi a creare su questa partita che secondo me ragazzi era una sfida fondamentale Perché era una gara secondo me insomma molto molto importante Prima di partire like al video, come fate sempre, commentate, condividete e iscrivetevi al canale Allora ragazzi questo pareggio qui come si può commentare ragazzi Peccato, peccato perché si è buttato via insomma due punti Prendendo quel gol, insomma quel pallonaccio è rimasto lì nella mischia Pavoletti ha buttato dentro questo pallone E poi ragazzi c'è stato il vantaggio di Finamonti nel primo tempo con un bel gol di Finamonti Però purtroppo ragazzi si esce anche oggi con un solo punto Che diciamo non è poco Visto insomma il distacco dalla zona rossa Però insomma ragazzi peccato, peccato perché queste partite accidenti Vanno portate alla fine con ragazzi con i tre punti Anche oggi secondo me, allora come approccio non mi era piaciuto granché Perché i primi dieci minuti si era andato un pochino in difficoltà Poi c'è stato poi l'interruzione di sette minuti per appunto il cambio dell'arbitro Che si era fatto male Ecco dopo quello stoppoli la squadra si è rimessa un pochino in sesto Ragazzi secondo me si è giocato un primo tempo secondo me buono Un buono discreto, non si è creato tante palle e gol Però comunque insomma il gol si era fatto Altri due o tre palloni insomma per fare il raddoppio si sono avuti Poi ragazzi secondo tempo purtroppo come capita troppo spesso Insomma si scende in campo per appunto per amministrare appunto il gol E ragazzi quando sei lì che difendi un solo gol E poi purtroppo la beffa è sempre dietro l'angolo ragazzi Noi non ci si deve insomma mettere lì Purtroppo ragazzi si è traccheggiato Si è traccheggiato insomma ci siamo messi lì un po' a gestire il pallone Alla fine insomma loro poi non è che avevano ragazzi creato fondamentalmente grossi pericoli Però ragazzi purtroppo poi insomma Quando poi la partita si avvia alla fine basta un non niente Per insomma per rimetterla in carreggiata Purtroppo ragazzi Pavoletti subentrato Ci ha buttato dentro questo pallone da Pavoletti Vabbè no comment veramente insomma Però ragazzi insomma I singoli ecco sui cambi ragazzi Il nonno sinceramente mi è piaciuto poco stasera Perché ragazzi i cambi troppo tardivi Non puoi fare questi cambi Insomma al settantesimo ragazzi Con Pinamonti che insomma che camminava Insomma da un bel po' Un bel po' nel secondo tempo è sempre rimasto in campo ragazzi Io non capisco perché insomma ci sa queste punte E deve giocare sempre Sempre fino a Monti Insomma nonostante che uno può Insomma che il giocatore fa gol ed è forte Ma quando poi non ce la fa più Va sostituito ragazzi Poi anche Anche Henderson Ma stasera ragazzi non mi è piaciuto Benassi Idem Anche lui insomma nella gestione del pallone Mi è piaciuto veramente poco ragazzi In definitiva insomma è un punto che ci tiene Diciamo distanti dalla zona rossa Però ragazzi accidenti In casa non si riesce mai a dare questa Zampata decisiva Io non capisco perché ragazzi in casa Questa squadra insomma soffra Tra virgolette Cioè non riesce mai a portare a casa Il bottino pieno Io sinceramente non me lo spiego Ditemelo voi se sapete il perché Ma insomma è veramente strano ragazzi Insomma comunque un punto che insomma Comunque Muove nel suo piccolo diciamo La classifica Rimano del tanto che oggi L'amaro in bocca deve aver buttato via Due punti Perché ragazzi Vincendo oggi Sareste andato ragazzi A più 13 Sulla zona rossa Ed è un peccato Perché insomma le prossime due ragazzi Con la Sampdoria fuori casa E con la Juventus Al Castellari Saranno Ovviamente due sfide Più complicate Sicuramente di questa qui ragazzi E oggi fare Sarebbe stato fondamentale Ma insomma ragazzi Noi si prosegue Si va avanti Sulla nostra strada E vediamo un po' Quello che si Riuscirà a raccattare Fuori casa Contro la Sampdoria Ragazzi Niente Vi saluto qui Nel traffico Nel Dello stadio Vi saluto Vi ringrazio Like al video Commentate Condividete Iscrivetevi ragazzi E noi ci vediamo Alla prossima E oggi come sempre Forza Empoli Forza Azzurri Ciao Ciao